Gentili telespettatori, buona giornata. E così la CGL è riuscita a raccogliere 4 milioni di firme. 4 milioni di firme, cioè praticamente il 6-7% degli italiani hanno firmato il referendum della CGL. Così il sindacato, il cui capo è il mitico Maurizio Landini, ovviamente il mio è sarcasmo, ha depositato in corte di Cassazione le firme raccolte per 4 referendum abrogativi del Job Act, la riforma del mercato del lavoro del governo Renzi. Lui dice, Landini, è giusto abrogare le leggi sbagliate. Ma saranno veramente sbagliate? Andiamo a vedere, chi lo sa? E così, firme depositate, 4 milioni di firme per 4 referendum, per questo Job Act che è stato inserito come legge italiana nel 2015. Contratto a tutele crescenti che sostituiva di regola il diritto al reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa, con un indennizzo economico. Allora, parliamoci chiaro, a me è successo con un'azienda che non ero più gradito, è lunga da spiegare, comunque non ero più gradito. Allora che cosa ho fatto? Ho chiamato i sindacati, io poi ero come quadro dirigente, quindi non ero iscritto ai sindacati, i sindacati mi hanno detto Non ti preoccupare, noi ti difendiamo, poi ti iscrivi. Ecco, il sindacato prendeva il 10% di quello che si riusciva a prendere. Perché? L'azienda non mi voleva più, ma se mi licenziava il sindacato col giudice mi facevano reintegrare, ma parliamoci chiaro, quando non sei più gradito in un'azienda, come si dice non c'è treppa per gatti, quando non sei più gradito devi solo trovare il modo di andare via, a cercarti in altro lavoro e cambiare, perché quando il rapporto si incrina, magari nello Stato, intanto è difficile nello Stato che ti mandino via, però lì, sai, non c'è il padrone, il proprietario, allora nello Stato il reintegro può anche andare bene, ma nel privato, io mi ero presentato con i sindacati, abbiamo fatto, abbiamo, ci ho messi d'accordo per una cifra, io ho preso la cifra e ho dato le dimissioni, chiaro, no? Pertanto, se il giudice dice, per esempio, no, 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 nessun indennizzo deve essere reintegrato nel posto di lavoro, magari tu preferivi l'indennizzo, perché nel posto di lavoro te ne combineranno poi di tutti i colori, perché quando un'azienda non riesce a licenziarti, fa poi in modo che tu ti stanchi, che tu non ne possa più, te ne combinano di tutti i colori, poi ti inducono ad andare via, magari ti mettono alle strette che non hai trovato neanche un altro lavoro, quindi il fatto del reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa con un indennizzo economico, la cancellazione di questo, secondo me, ci sono problemi molto più grandi come il salario minimo che manca, gli stipendi da terzo mondo, più che il reintegro, la buona uscita, insomma, avrebbero dovuto magari fare un referendum sul salario minimo, però comunque, con questi quattro referendum la CGL chiede l'abrogazione delle norme che impediscono il reintegro al lavoro in caso di licenziamenti illegittimi, l'abrogazione del tetto massimo di indennizzo sui licenziamenti illegittimi nelle imprese fino a 15 dipendenti, l'abrogazione delle norme sulla liberalizzazione dei contratti a termine, reintroducendo sempre le causali e infine l'abrogazione delle norme che impediscono negli appalti di estendere la responsabilità dell'azienda appaltante in caso di infortuni sul lavoro. Su diversi aspetti di questa legge introdotta da Renzi nel 2015, se non sbaglio il 7 di marzo, la Corte di Cassazione si è pronunciata diverse volte, spesso censurando le norme. Le ultime due sentenze sono state depositate il 16 di luglio, con la prima si dichiara incostituzionale l'indennizzo invece della reintegra nei casi di licenziamento disciplinare, per i quali il contratto non prevede il licenziamento e con la seconda si reintroduce la reintegra per i licenziamenti economici dove si dimostri l'insussistenza del motivo oggettivo avanzato dall'azienda. Landini dice che adesso tocca all'autonomia differenziata, la partenza della raccolta firma sul referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata, a cura del comitato promotore di cui fanno parte anche Guil, i partiti di opposizione e numerose associazioni. Allora, il referendum per cancellare l'autonomia differenziata direi che non serve, perché si farà già il referendum, cioè è stata votata l'autonomia differenziata, ma adesso si dovrà andare al referendum perché i voti minimi non c'erano in Parlamento, ci vuole la maggioranza qualificata del 66%, quindi non essendoci stati i voti in Parlamento della maggioranza per far approvare questa riforma costituzionale, si finisce automaticamente al referendum confermativo, quindi c'è già un referendum sull'autonomia differenziata. Il punto è che se il referendum dovesse passare con il sì, arriva poi un altro referendum del sindacato come la rivincita, dice magari abbiamo perso di poco con il no, arriva un altro referendum per cancellarlo, e quindi l'autonomia differenziata probabilmente avrà due referendum, e poi parliamoci chiaro, per far partire veramente l'autonomia differenziata servono minimo 170 miliardi per fare quei famosi LEP, 170 miliardi che l'Italia non avrà mai, neanche nei sogni, mai, mai, assolutamente. Pertanto l'autonomia differenziata, secondo me, è un qualcosa che si è fatto sulla carta, ma che non si concretizzerà mai, mai. Poi magari mi sbaglio, anche perché poi agli italiani di sta autonomia non gliene può fregare di meno. Interessa i leghisti? Sì, perché Salvini ha fatto credere ai leghisti che l'autonomia sia una sorta di secessione del grande nord dal centro-sud? Che vi devo dire? Gliel'hanno fatto credere? Gli elettori, cappeggiati da Zaia, credono che l'autonomia sia la rivoluzione in Italia? Invece è poco più di una sciocchezza. Poco più di una sciocchezza. Che peraltro non si realizzerà mai. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.